Ciao a tutti ragazzi io sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Non mi sembra vero e già ve ne siete accorti dal background e soprattutto dal cambio di ufficio abbiamo finalmente finito il trasloco da Livorno andavo posto comunque sempre nelle vicinanze in periferia di Livorno mettiamola così dove ci siamo spostati e finalmente abbiamo un ufficio veramente bello grande che poi è un salotto grandissimo dove abbiamo messo tutti i giochi che vedete alle mie spalle una libreria con i fumetti, giochi della GV Alto tutti i titoli, board game, creazioni 3D, stampe da quella parte addirittura ci sono le stampanti 3D il computer di mia moglie, oggetti da collezione tipo le maschere di Halloween, di Michael Myers e altro ancora di Venerdì 13 non vi faccio fare un tour in questo video perché ci sono ancora tante scatole in giro abbiamo portato via fra board game e tutto tipo la bellezza di un io penso un'ottantina di scatoloni se non di più e ce ne sono ancora tanti altri a giro comunque la stanza è veramente molto grande e questo è il primo video che faccio dal nuovo ufficio e vi giuro ne sono contento da morire perché consentitemelo dopo 12 anni passati in un soppalco per quanto bellino però comunque buio afoso, stretto era veramente una cosa che stava iniziando a andarci giustamente un po' troppo stretta e non ne potevamo più quindi dopo 12 anni penso di essermelo meritato questo è il primo video dalla nuova casa da nuovo ufficio e oggi vi voglio parlare del destino di Fallo Art primo romanzo della serie di Descent Viaggi nelle tenebre vi ricordate il gioco della Fantasy Flight Games e della Asmode in questa edizione del romanzo del primo volume italiano appunto tradotto da Asmode Italia che io ringrazio immensamente di cuore per avermi fornito questa copia per la recensione che ora di cui appunto vi vado a parlare ve ne parlo a breve dopo la sigla tra l'altro guardate la maglietta che c'ho addosso che preannuncia altri video di manuali in uscita di Sine Requie guardate bella la maglietta di Sine Requie addosso veramente che mi ha regalato il mio amico Curte che è spettacolare e mi piace da morire e tra l'altro ne abbiamo anche altre perché ci hanno fatto fare delle foto per il sito comunque oggi vi voglio parlare del Destino di Fallo Art primo romanzo della serie di Descent Viaggi nelle tenebre che è un gioco da tavolo che vi ho portato sul canale Homeboard Game e uno di quelli che ho preferito perché ovviamente si parla di fantasy si parla anche di giochi a me e mia moglie molto cari di cui vi abbiamo parlato tante volte tipo ad esempio Le Case della Follia un gioco nella sua seconda edizione che viene guidato da un'app e quindi è bello perché fonde il gioco da tavolo al videogioco e c'è sempre questa voce narrante che ti sembra di averci accanto al tavolo un dungeon master ed è molto interessante e onestamente Fantasy Flight e appunto Asmode hanno avuto una bellissima idea di fare questi romanzi sull'ambientazione del gioco perché l'ambientazione di Descent è un'ambientazione spettacolare è un'ambientazione che detto onestamente non è niente di meno di quella di World of Warcraft di Shannara o di altri capolavori dell'epoca comunque anche dei Forgotten Reams di Salvatore e appunto ci volevano un po' di romanzi che l'andassero a raccontare ora anche soltanto giocando a Descent con le mille mille espansioni che c'ha la storia l'andate a conoscere però è sempre la storia vista magari in quel punto preciso in quel dungeon preciso in quel bosco baronia precisa dove si vanno a sviluppare magari quelle 5-6 avventure di quel pacchettino espansione qui invece ci fanno conoscere molto più da vicino all'ambientazione che è veramente poi molto caratterizzata ovviamente si trovano tutti quanti i classici archetipi del fantasy il drago, il grifone, il guerriero barbaro che sembra Conan il ladro che è un po' il classico un po' furtivo allo stesso tempo un po' passatemi il termine anche buffone e codardo magari la maga che invece è sempre sicura di essere dei suoi incantesimi e il goblin brutto piccolo e verde quindi tutti quanti i cliched del fantasy sono e in questo però comunque vi dicevo un'ambientazione molto caratterizzata e molto viva i personaggi ben descritti e in questo romanzo si parte dalla storia sempre per non farvi spoiler di la figlia della baronessa della baronia appunto dove è inventato questo romanzo che non è Fallowart Fallowart è una cittadina dove gli avventurieri andranno successivamente per cercarla che una notte in un cimitero a proprio prima pagina del libro Prefazione è scomparsa stava recitando una formula magica la qualcuno l'ha vista ed è scomparsa nel nulla e sembra che dalle tombe di questo cimitero si stiano rialzando i morti viventi non morti quindi c'è qualcosa di particolare che un gruppo di avventurieri ormai vecchi e questo mi è piaciuto da morire perché richiamano all'ordine per risolvere questo caso quattro sarebbero tre comunque non vi voglio spoilerare niente quattro avventurieri che sono i più famosi del regno però da quando hanno fatto l'impresa che le ha rese famose sono passati 20-30 anni quindi ora i nani invecchiano più lentamente come gli orchi però gli umani sono più vecchi c'è addirittura il ladro umano che va per la sessantina quando invece è diventato un eroe che ne aveva 30 quindi inizia a avere tutti quanti i dolori lacciacchi è anche divertente come idea di vedere un avventuriero non più giovanissimo e dovranno portare a coppimento questo lavoro il libro, questa missione è praticamente di trovare la figlia della baronessa il romanzo è di Robby McNeven come vedete qua giù in copertina che è uno scrittore delle islands scozzese ed è veramente scritto bene interessante c'è il momento magari per indagare c'è il momento per l'avventura c'è il momento per combattere c'è il momento per l'azione di sotterfugio c'è tutto in un manualetto, in un libretto che poi alla fin fine sono 300 due pagine anzi con i saluti quindi saranno anche 290 è veramente scritto bene molto interessante ve lo consiglio e non vedo assolutamente l'ora di leggere il nuovo in conclusione il destino di Fallowart primo romanzo della serie di Descent Viaggi nelle tenebre se siete come me amanti del fantasy poi per un romanzo di 16,90 euro ve lo consiglio assolutamente perché è divertente e mi è venuta voglia di rifarmi una partita a Descent anche perché i personaggi che vengono citati sono poi personaggi che usiamo nel gioco normale quindi soprattutto nella seconda edizione ringrazio ancora una volta Asmod Italia per avermi offerto una copia per la recensione e vi ricordo che se lo volete ordinare primo link è in descrizione e in sua impressione dalla Gioco Libreria Semola al miglior prezzo sul mercato e se andate sul sito lo trovate e è finito oppure non c'è nel catalogo contattate e mandate una mail al supporto a Corrado al proprietario della Gioco Libreria Semola e fateli presente che arrivate dal canale di Coridan lui non solo farà il possibile per trovarvelo ma se lo trovate appunto usate sempre il codice discount Coridan7 come vedete a nota in descrizione per avere uno sconto pari al 7% e per spese superiori ai 79 euro spese postali gratuite in 24 ore a casa col corriere non in Italia ma in tutta Europa quindi comunque è un servizio eccellente fatemi sapere cosa ne pensate e ci sono tantissimi altri contenuti in arrivo addirittura c'ho Bloodborne il gioco da tavolo mi è arrivato Destiny's che è bellissimo due nuovi manuali di Sine Re qui vedete la maglietta bellissima e ragazzi finalmente abbiamo un nuovo ufficio e aspettatevi anche tanti finalmente lo possiamo fare gameplay sul canale in questo tavolo che vedete qui davanti che si allarga io, mia moglie, mio amico Pippo insomma e chi vorrà giocare con noi faremo partite a tutti i board game che abbiamo ma anche delle belle partite soprattutto i giochi della GV Warhammer 40.000 e i JobSigma fatemi sapere cosa ne pensate ve lo consiglio di cuore ciao ragazzi alla prossima Grazie a tutti